Sono 3.764 i nuovi casi di positività al Covid riportati nel bollettino di oggi del Ministero della Salute per la Sicilia, ma una nota della Regione precisa che sul numero complessivo dei casi confermati 558 sono relativi a giorni precedenti al 12 aprile e che anche i decessi riportati oggi, 27, si riferiscono ad alcuni giorni fa. Scende il tasso di positività che dal 16% passa al 14,1%. I dati di oggi fanno della Sicilia la settima Regione italiana per maggior numero di nuovi casi. I guariti sono 10.177, circa il doppio rispetto alle 24 ore precedenti. Per quanto riguarda gli ospedali, i ricoverati nella medicina Covid sono 944, 23 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 59, con la diminuzione di una unità. A livello provinciale, intanto, scende la curva dei positivi al Covid-19 nell'Agrigentino, anche se si registra un nuovo decesso. I dati del bollettino diffuso oggi dall'Asp, ma che fa riferimento all'11 aprile, indicano 141 nuovi casi e 634 guariti. Come si diceva, c'è un nuovo decesso. Si tratta della prima vittima dall'inizio della pandemia nel piccolo comune di Sant'Angelo, Muxaro. Ma si contano anche due nuovi ricoveri, mentre per quanto riguarda le terapie intensive restano quasi vuote. Gli agrigentini ospedalizzati sono 48, di questi 47 sono in degenza ordinaria, 28 al San Giovanni di Dio di Agrigento, 18 al Fratelli Parlapiano di Ribera ed uno presso un ospedale fuori provincia. Un solo de gente in terapia intensiva all'ospedale di Ribera. A Sciacca le persone contagiate sono 1.016, 180 a Ribera, 77 a Sambuca di Sicilia, 169 a Santa Margherita a Belice, 56 a Santo Stefano Quisquina, 134 a Siculiana, 42 a Villa Franca Sicula, 1.680 ad Agrigento, 63 a Burgio, 27 a Calamonaci, 52 a Caltabellotta, 1.8 a Canicattì, 70 a Cattolica Eraclea, 1.201 a Favara, 942 a Licata, 48 a Lucca Sicula, 331 a Menfi, 52 a Montallegro, 69 a Montevago.